il video di questa riflessione resterà a furtura memoria oppure non se ne fotte nessuno queste sono due ipotesi facili che non se ne fotte nessuno e uno ci prova lo stesso per lasciare un'eredità ai costi di arcosentenza allora praticamente tu hai vissuto una vita io ma faccio il video come se volessi indirizzarlo a chi non mi conosce anche se è difficile perché dovrei dire un sacco di cose se non ho la forza sto a letto adesso dai dieci non ho in mezzo di dieci non ho manco la forza di alzarmi e che giorno è oggi mercoledì oggi dovrebbe essere mercoledì 24 aprile io ho 53 anni e mezzo quindi teoricamente sono in età lavorativa non praticamente teoricamente sono in età lavorativa non ce la faccio mi alzo dal letto 10 minuti e mi sento malissimo non so di che malattia lo sapete siamo chiamata malattia se sono un fatto psicologico certamente sputo sangue tutte le notti da più di un anno che sputo sangue tutte le notti ed è strano che non si riesce a trovare il motivo di questo malessere può essere può essere solo un fatto psicologico può essere un fatto psicologico che poi si trasforma in un fatto nervoso che cosa succede che io avendo e poi dovrei fare subito pure soprattutto per le persone che mi conoscono più vicine come dire però per capire cosa per far cadere che io ho bisogno di aiuto ma di che tipo di aiuto non è un aiuto diciamo ecco diciamo se dovessi sintetizzare l'ho detto sempre lo dico sempre è l'umanità cioè la crisi che vive oggi secondo me il mondo il mio caso singolo è una cosa veramente il mondo vive questo tipo di crisi cioè diciamo il mancato sviluppo mancata evoluzione del cervello umano della mente umana della mancata evoluzione del cervello della mente umana rispetto alla all'umanità le questioni di umanità ecco l'umanità cioè si perde sempre più secondo me nel corso cioè lei si perde sempre più non c'è mai stata cioè l'essere umano secondo me nella storia ha perso ha sbagliato il percorso di evoluzione quindi noi siamo arrivati oggi al 2024 24 aprile 2024 in cui io mi rendo conto che gli esseri umani non hanno umanità cioè non sono umani non hanno umanità in che senso molto semplicemente che di fronte ai casi di persone che stanno male c'è una cosa un atteggiamento spaventoso che spinge la gente a non occuparsi dei problemi degli altri ma a tentare di fregarsi solo dei propri affari e questo comporta un decadimento totale della situazione sociale dei malesseri della società questo andrebbe contestualizzato storicamente con il fatto che oggi nel 2024 non c'è mai stato questo tipo di sensibilità nell'essere umano cioè sempre stato molto scarso no a macchie di opardo posti si posti no qualcuno si qualcuno no diciamo sia a livello geografico a livello di come dire di tipi di organizzazione sociale e poi dipende anche dagli individui chi più chi meno ha questa sensibilità eccetera però sostanzialmente oggi siamo forse il punto peggiore della storia semplicemente il fatto che siamo diventati 8 miliardi su questo pianeta e quindi c'è poi un problema di come si dice spazi vitali e di risorse disponibili da parte del pianeta per queste per noi per le persone no per gli esseri umani e quindi si è scatenata una guerra silenziosa tra virgolette tra di noi perché perché per accaparrarci risorse e spazi vitali quindi che cosa succede storia individuale di Marco Ricco c'è sottoscritto che per tante vicissitudini senza accusare i singoli ma semplicemente dicendo che dato il livello di indifferenza di mancanza di capacità di guardare la vita degli altri di guardare all'insieme cercare di avere un'ottica per cui si dice guarda io vivo secondo il fatto di migliorare la vita mia e cosa degli altri siccome non c'è tutto questo si arriva al punto in cui in maniera molto superficiale una persona possa trovarsi in difficoltà magari non esagerate non enormi tipo per esempio un uomo che vive in una città del sud Europa quindi voglio dire non del mondo tra virgolette arretrato comunque Europa anche se il sud anche se è Napoli comunque Europa si sta abbastanza bene economicamente non manca da mangiare sicuramente non manca da avere possibilità di studiare infatti è vero che mi iscrivo all'università a 18 anni e non manca la possibilità di fare sport non manca la possibilità di avere amicizie non manca la possibilità di fare attività culturali cresce insomma fare esperienze fare viaggi vacanze andare a nord Europa insomma tutta una serie di cose però per tante ci si chiama dei brutti vizi quando diciamo così di fumare gli spinelli poi ti trovi in situazioni di strambe in cui vabbè girano delle droghe un po' più pesate acidi cose insomma vabbè sono praticamente parte che tu stai male cominci a stare male perché queste droghe hanno effetto deleterio sulla tua vita e sempre nell'ambito di questo clima di indifferenza di non curanza di è proprio distrazione è proprio come se uno non li vede neanche cioè uno dice non è cattiveria no è cattiveria perché è la forma mentis nostra che ci porta a non voler vedere i problemi degli altri e occuparci solo dei fatti nostri quindi è cattiveria se uno non si rende conto subito di un problema che c'è una persona vicina un amico un fratello un compagno di classe un collega di lavoro è una colpa secondo me dovrebbe essere giudicato cioè il salto evolutivo oggi dovrebbe essere quello di considerare queste cose una colpa farsi un esame di coscienza e dire no ma noi dobbiamo intervenire in queste situazioni cioè dobbiamo essere attenti a quello che succede attorno a noi e infatti cosa succede io i primi sintomi di malessere psicologico vado da una psicologa consigliata da mio fratello e tra l'altro è stata anche mia insegnante di filosofia lei in maniera superficiale non affronta il problema quindi è il primo step diciamo cioè a parte le amicizie che ti ignorano tu vai anche dal professionista che già di per sé è una deviazione secondo me del cattivo funzionamento della società cioè il fatto che esista un professionista no? tra virgolette che fare o psicologo no? non peggio ancora lo psichiatra però vabbè già il fatto che esista una cosa del genere è una forma cioè una testimonianza della deviazione della società cioè del modo sbagliato di vivere no? insomma i miei problemi si aggravano perché vengono affrontati in maniera superficiale sia dalle persone vicine di famiglia che poi vado a firmare i psichiatri peggiora la situazione al criminale di psicofarmaci restano 22 anni sotto effetto di psicofarmaci nel tempo dato la dipendenza si sviluppa di spinelli di cannabis e poi anche di cose brutti con fornografia cioè tutta una serie di schifezze che peggiorano sempre più arrivo che divento dipendente anche da cocaina e crack e tutto questo diciamo praticamente arrivi io sono arrivato a 50 anni 50 anni suonato, 51 anni suonato in cui prima mi accordo diciamo di togliere la necessità di togliere i psichofarmaci da solo senza nessun consiglio esterno perché a un certo punto ti dico io non è che mi sono abbandonato da tutti tanto è vero faccio una vita quasi da diciamo semi barbone come dire nel senso notate buttato per strada da solo in preda droghe facendo cose assurde tipo dormire buttato delle case abbandonate in mezzo alla spazzatura cioè roba di tutti e insomma togli i psichofarmaci dopo sei mesi ti rendi conto della droga ti fa male cominci a trovare una battaglia contro la droga questo succede a giugno 2021 in cui io è l'anno in cui io compio 51 anni giugno 2021 per me è uno spartiacco cioè io mi rendo perfettamente conto perché cosa succede che a giugno 2021 dopo che ho tolto i psichofarmaci a dicembre 2020 in cinque mesi cinque sei mesi il mio cervello comincia a ragionare perché non ci sono più i psichofarmaci e dico io sto distruggendo la mia vita e di botto cioè perché la sofferenza del fisico la sofferenza è prova del corpo il fisico è lucida in quel momento la sofferenza che se tu togli i psichofarmaci la sofferenza è l'utile ti accorgi che stai soffrendo con i psichofarmaci tu non ti accorgi che stai soffrendo infatti loro richiamano una copertura ma è un fatto negativo cioè una cosa spaventosamente negativa cioè lo psichofarmaco può essere utile nei casi proprio estremi in cui uno sta talmente male che deve essere abbattuto come dire dice ok stai soffrendo troppo ti faccio una settimana il psichofarmaco come dire ti addormento per una settimana una sorta di coma farmacologico forzato per poi parti riprendere ma ti do una mano psicologicamente ma ti tolgo lo psichofarmaco perché se tu non senti la sofferenza tu non capisci le cause che ti portano a stare male non potrai mai uscirne pure insomma sostanzialmente mi capita sto chiamiamolo miracolo e io a giugno 2021 sto due mesi senza toccare niente di droga nessuna droga nessuno psichofarmaco vabbè psichofarmaco già prima sono droga spinelli niente niente di niente e lì succede qualche cosa un attimo faccio un attimo una pausa ecco qua si proseguo perché l'anno spartiacque perché io praticamente nel momento in cui mi rendo conto che devo uscire dalle droga che perstando quella diciamo togliendo i psichofarmaci sentendo la sofferenza addosso mi rendo conto è istinto non c'è ragionamento si ma è istinto proprio che devo togliere anche le droga tolgo anche le droga per due mesi e che cosa succede? che i primi venti giorni in cui ho sto senza droga paradossalmente sono abbastanza tranquillo però man mano che va avanti nel tempo noto gli atteggiamenti delle persone attorno sempre più ostili negativi nei miei confronti perché per tutta una serie di combinazioni strambe della vita che cosa succede? che praticamente ovviamente tu sei nervoso perché tu hai praticamente ti rendi conto che hai buttato via la tua vita a 51 anni ti svegli ti guardi indietro e ti dici cazzo cosa mi è successo? cosa avrei potuto fare invece? chi ero io veramente? non sono quello che ho vissuto così e tu ti vedi diverso cioè io mi sono visto diverso io da quel momento in poi come fossi nato un'altra volta ti vedi proprio diverso sei diverso e vedi quello di prima come uno che è stato una vittima di un sistema che l'ha tartassato ha torturato e non ha fatto vivere la propria vita e che tu vuoi ovviamente il primo sentimento che tu hai è di rabbia verso questo sistema che ti ha impedito di vivere e quindi qual è la reazione? il nervosismo la rabbia urli sei arrabbiato sei incazzato pur essendo di una persona mite molto 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 mite ma di una mitezza incredibile però cosa succede? che un giorno vengo tra virgolette appunto licenziato un lavoro che stavo facendo torno a casa nervoso butto un'altra capanna a terra il giorno dopo mia sorella mia madre e mio fratello organizzano un escamotage per far entrare rinascosto degli infermieri ma almeno diciamo che forse dovrebbero essere stati infermieri in casa per farmi far fare una sorta di TSO illegale non dichiarato insomma una cosa bruttissima da lì in poi nasce tutta una guerra che peggiora tra me e il resto del mondo perché? perché ovviamente dal mio punto di vista io provo a spiegare il punto di vista di una persona che nella sofferenza riesce a tirarsi fuori da solo senza l'aiuto di nessuno anzi vedi gli altri che ti hanno abbandonato ti hanno mollato dici beh questo è senza speranze anche tua madre ti abbandona ti molla dice no tu sei spacciato non hai nessuna speranza di vita quindi ti molliamo lì vai a morire piano abbiamo solo tu tu invece ti salvi ti tiri fuori da quella situazione e vedi l'atteggiamento di persone attorno infastidite perché? perché tu ti ridiventi un problema per loro ridiventi un problema vivo reale che loro dovrebbero affrontare perché si sentono ovviamente in dovere di affrontare e quindi come lo vogliono affrontare? boom una cosa netta non devo perdere tempo io non ho voglia di avere a che fare a questo problema perché mi sento anche tremendamente in colpa perché ho sbagliato tante cose e questo qui che sei svegliato me lo sta facendo capire che io ho sbagliato un sacco di cose e io mi sento in colpa ma non lo voglio affrontare questo senso di colpa per salvare lui Marco preferisco boft gli infermieri che con una scusa banale ti fanno innervosire ti fanno una siringhina già me l'hanno fatta in passato funziona così tu vai in adrenalina ti buttano adrenalina in colpo ti agiti loro ti prendono e ti portano via con la scusa che sei agitato e da lì riparte la tiratera che stai sotto effetto di queste merde schifose di medicinali che ti distruggono la vita che cosa succede che loro ovviamente questo pensano sia in un modo semplicistico di risolvere i problemi perché semplicistico perché loro stanno diciamo tra virgolette bene quindi ovviamente non hanno interesse a come dire approfondire la cosa per cercare di capire per cercare di salvare veramente te perché il loro interesse principale è continuare a fare la loro vita senza fastidi io che diciamo da morto divento vivo ma ferito quindi ho bisogno di aiuto per essere aiutato per uscire fuori dalla situazione e la cosa stupida che poi arrivo a dire questo è che a me basterebbe pochissimo aiuto all'inizio perché io sono uno che ok la sofferenza però potrei stare benissimo in poco tempo mi sarebbe bastato un piccolissimo aiuto sarei stato bene e non avrei neanche più dato fastidio a loro ma questa cosa loro non la capiscono perché l'ottusità è spaventosa sotto questo punto di vista e quindi ne nasce un tentativo da parte loro da parte le persone attorno di sopprimere Marco dico perché perché uno che tra l'altro è intelligente è colto ha studiato parla e dice delle cose intelligenti giuste mi fa sentire in colpa mi fa sentire inadeguato io sono stato faccio l'esempio mia sorella tutta la gente ha detto io ho avuto un ruolo di responsabilità ho fatto questo ho fatto quest'altro ho viaggiato sono un manager sono un dottore sono uno specialista sono un consulente sono qui sono una mamma sono un fratello che è esperto di droga sono qualsiasi cosa mi sento essere messo in discussione da uno che era era morto salendo un fosso schifoso all'inizio esce fuori e dice che io non sono buono lo ci sta solo il desiderio di sopprimere questa cosa punto e basta quando che cosa sarebbe successo un piccolissimo aiuto nel senso di umiltà da parte di queste persone aprire un dialogo un confronto veramente umano ecco l'apertura umana il dialogo ok cosa c'è il mio ti ascolto ho tempo per te ti dedico tempo che cosa succederebbe invece di perde due tre anni della mia vita che sto ancora oggi c'è così il 2024 dal 2021 il 2024 c'è ancora questi discorsi perché impazzisci non capisci perché non ti vogliono aiutare in che modo non è che mi devono aiutare mi devo mettere soldi in tasca non ho mai chiesto questo una cosa difficilissima c'è il dialogo l'umanità c'è parlare di cose sono successe le cose nella nostra vita perché ti sei comportato così ti chiedo scusa queste robe qui non esiste non esiste il cervello loro è fuso completamente è messo in questo come stavo io prima cioè non ti rendi conto come una droga ma usi droga non usi droga guardi la televisione che ti imporpa il cervello c'è il lavoro che ti distrugge l'umanità perché tu sei talmente preso in quella cosa che il lavoro è l'unica cosa è una droga ma pure quella no? stai in un trip tutto tuo che non puoi uscire da quella cosa perché come ne esci vedi la vita vera ti fa paura allora ho orrore da schiacciare via e quindi è una cosa veramente spaventosa perché tu vivi ed è un peccato perché alla fine perché perché io no? io come Marco Riccovo io mo' lascia tutte le critiche al sistema no? che ho fatto che sono verissime ma uno come me che ha vissuto quel tipo di sofferenza ma è intelligente perché ha studiato ho dovuto studiare e studio cioè io sono uno che voglio capire le cose mi applico io sono uscito ieri sera ma faccio un esempio per dire cosa l'intelligenza la cultura il sapere le cose ma unita all'umanità anche folle ieri sera a Scopestrada vedo un signore con un passeggino con un bambino che guarda nella spazzatura ho visto nella spazzatura sono i classici rom che vanno a prendere i vestiti nella spazzatura no? che cosa fanno? io lo vedo pensato guarda aspetta siccome io avevo delle delle camicie a casa che volevo dismettere le avevo lavate perché stavano in un mobile abbandonato stavano di umidità sono andato ho fatto queste lavatrici e le lavate e stavano asciugandosi avevo intenzione di portarle a Napoli a dei omelettes si chiamano così questi che vivono in strada vedo lui e dico guarda ma ti interessa voi che vado a prendere dice sì sì ma io sto andando a casa a torrenunziata diciamo non ti può qua aspetta durante tu vai prosegui verso torrenunziata tu prosegui vai verso torrenunziata tranquillamente io passo per casa faccio una deviazione passo per casa stavo a piedi ovviamente come lui prendo le camicie metto una borsa e ti becco più avanti per dire cosa che io ho fatto una stronzata poi non l'ho beccata questo mi sono dovuto riportare a casa le camicie ma per dire cosa l'attenzione umana ci dico cazzo io queste camicie le do a quello c'è un bambino quello le vende si fa qualcosa di soldi ma può essere pure non lo so un imbroglione che imbroglione può essere non lo so uno che gira con un passeggino per strada sicuro ha bisogno sicuro ha bisogno non sta girando con un Ferrari che dice un pezzo di merda che ruba o che sfrutta gli altri no lo faccio lo sforzo dico ok faccio una stronzata perfetto ho fatto una cazzata me ne sono tornata a casa inutilmente no questa borsa di cose ma per dire cosa l'umanità cioè quel fatto di dire cazzo faccio sta cosa che forse anche un po' controproducente per me stesso dal punto di vista della convenienza economica non so del perdere tempo del sprecare risorse stancarsi avrei potuto dedicare quel tempo a fare una cosa più piacevole a guadagnare dei soldi ma l'umanità sto aiutando a uno per sapere strada che ha bisogno con un bambino cioè una cosa che ti muove il sentimento cioè lascia perdere poi il calcolo di convenienza che lo fai lo stesso lo devi fare per farlo per carità non è che qua però la cosa che ti muove che ti spinge no il sentimento allora se ci fosse stata questa cosa nei miei confronti cosa succede? che Marco nel giro di poco tempo è capace di riprendersi perché è l'umanità che gli è mancata allora qui ci sta il cortocircuito di Marco che non capisce forse cosa succede? se è mancata l'umanità è inutile che la fai a cercare perché se ti è mancata l'umanità da quelle persone per 30 anni cosa perché loro adesso perché tu vuoi sfondare quel muro di disumanità e sei cosciuto perché non ti arrendi non è possibile mia madre mio fratello mia sorella degli amici non lo so ci metto le virgolette perché purtroppo ci metto le virgolette che tu hai creduto per 30 anni hai condiviso cose allora tu impazzisci dicono non lo vuoi sfondare questo muro dici no non è possibile questi devono essere devono essere umani cioè io li ho conosciuti come esseri umani mia madre mio padre è morto non mi conosco dire niente com'è possibile che sta gente si comporta in questo modo sarebbe passato poco avere un dialogo franco giovanni nicola un dialogo franco cioè aperto capito invece no perché quello ti dà forza ti dà sicurezza ti dà speranza ti dà speranza ti dà la possibilità di dire ok ci sta una speranza poi tu loro ti dico guarda marco noi stiamo lì nel mondo fuori guarda che fa schifo è merda la gente si ammazzano una con gli altri si danno i morsi sui polpacci escono fuori dai tombini come esci di casa escono fuori dai tombini si danno i morsi tu sei stato ingenuo sei stato uno che è stato sfruttato da tutti ti hanno sfottuto o sei semplicemente stato indifferente perché non facevi la guerra quindi ti hanno considerato un mezzo pazzo uno inutile uno così renditi conto ah ci dispiace è stato così però renditi conto capito farti rendere conto della realtà quella che è stata e tu ti riorganizzi ok tengo 53 anni sono zoppo però almeno posso vivere sono zoppo ma vivo invece una cosa non vivi sei nel letto a 53 anni a 54 anni andai 10 del mattino sei nel letto perché è spaventuro ti vogliono schiacciare non lo vogliono vedere perché per loro è senso di colpa non lo vogliono vedere preferisco vedere morto bastava poco io mi rimettevo in moto camminavo con le mie gambe ero io in grado di aiutare qualcun altro così si migliora il mondo così si evolve il cervello dell'essere umano io ero in grado di aiutare qualcun altro nel frattempo cosa che cerco di fare ma le mie risorse energetiche sono scarsissime perché sono pieno di acciacchi adesso umanità di cuore e di cervello ovviamente perché ci sta questo fatto cioè è incredibile come c'è l'orgoglio infatti non ammettere qui non voler vedere e voler schiacciare meno che non ci sta qualche altra verità sotto che io non so perché sembra assurdo sembra assurdo si scatena una che poi per loro il gioco cioè loro si abitano a vederti come un malato mentale come un drogato non gliela togli questa idea di testa puoi fare qualsiasi cosa puoi pure camminare sull'acqua puoi costruire dei grattacieli solo tu loro non si tolgono da testa l'idea che tu sei un malato psico un drogato e che vai trattato in quel modo lì non se la tolgono da testa che loro si sono abituati per 30 anni il loro cervello è pigro loro non riescono a fare il lavoro mentale per dire questa persona è cambiata sta dando dei segni evidenti di cambiamento lui prima queste cose questi ragionamenti non riescono a fare non vogliono perché è la loro pigrizia mentale che gli porta a dire io questo sforzo non lo devo fare per il mio orgoglio personale perché io non devo ammettere di aver sbagliato nulla nella storia di questa persona per un senso di colpa che non voglio affrontare non voglio tirare fuori è perché è facile è più facile non è cambiato niente non devo cambiare niente è più facile è più comodo per loro e come ha detto un'amica è colpa mia perché io ho abituato la gente a trattarmi male e loro vogliono trattarti così perché sono abituati in questo modo quindi ti ripeto è complicato per loro cambiare il punto di vista no? allora ovviamente tu che sei nervoso tu che stai nel problema che sei nervoso dici delle cose magari un po' al di sopra delle righe perché? è perché vedi la loro reazione se io dopo un periodo di inferno durato tantissimi anni torno a casa perché incalzato perché licenziato butto a terra un'attaccapanne e tu invece di affrontarmi sapendo che io non ho mai torto un capello a nessuno io da piccolino mia madre e mia sorella lo sanno se vedevo le formiche a terra cercavo di non calpestarle e loro che fanno? prendono in giro che sono una truffa e fanno i portali via con un TSEO illegale che per fortuna non ha buon figlio di musica e loro atteggiamento e questo non cambia per cui io che so a 24 aprile 2024 sto ancora in questa situazione a domandarmi perché perché io li voglio bene quindi mi domando perché loro mi trattano in questo modo loro in questo momento stanno facendo le loro attività mia sorella quando qualche volta ha provato con me a mettersi al telefono dice no ma io non posso ne ho detto sto tempo con te anzi ah perché dopo sto male non riesco manco a lavorare quindi lei in questo momento sta facendo le sue attività dice no io non ho tempo per te mi dispiace perché devo lavorare e io no non ho questo diritto io non ho questo diritto bastava poco bastava dedicarmi pochissimo tempo sono passati più di tre anni praticamente un altro poco su tre anni si aggiungono che stavano su tre anni io sto ancora così e loro fanno le loro attività mio fratello fa le sue attività la moglie di mio fratello che ha vissuto certo ma dovrei affrontare mille cose mille cose mille cose spaventose mille cose spaventose e non vogliono affrontare loro si abitano a versi si bastava poco bastava poco appunto questo umano un minimo di confronto di dialogo sincero aperto schietto non la scusa per dire ti faccio portare via allo psichiatra perché io non ho tempo non ho voglia di occuparmi di te ci sono gli specialisti nella società gli specialisti dell'umanità non esistono l'umanità non è una cosa che si paga che si fa per lavoro non esiste proprio cioè proprio non esiste non è possibile non è possibile è l'unica cosa che salva in certi momenti l'umanità punto e basta punto e basta perciò non si va avanti perciò la mente umana non si evolve perciò stiamo andando verso cosa il microchip del cervello perché a un certo punto è un'evoluzione anzi non è evoluzione è un'involuzione questo è il progresso tecnologico punto e basta inevitabile inevitabile il nazismo però messo in chiaro come dire cioè ti controllo il cervello ti faccio fare quello che dico io ma a un certo punto è inevitabile ed è anche quello che ci meritiamo come esseri umani che non siamo stati in grado di sviluppare di evolvere il cervello in un senso anche umano perché va bene la tecnologia per carità io faccio lo sito web c'è una cazzola cioè la tecnologia ci sta c'è una cazzola ma l'umanità non è non c'è nessun trade off tra tecnologia e umanità non esiste un discorso sbagliato si possono portare avanti tutti e due tranquillamente tutti e due tranquillamente tecnologia high tech e umanità tranquilla assoluta non c'è nessuna trade off tra le due cose si può tranquillamente così come la crescita economica vabbè insomma questi sono discorsi diciamo così però le tecnologie per aiutare la questione ambientale l'ecologia cioè sono connesse queste cose sono connesse sarebbe possibilissimo basta la volontà basta l'intelligenza basta la volontà del cuore basta l'intelligenza il cervello sono cose che si possono fare non si stanno facendo sono cose false quelle che si fanno oggi ora apro un altro parentesi perché sono appassionati un'altra cosa un'altra parentesi un'altra parentesi un'altra cosa ma è collegato tutto quello che si sta facendo oggi falsamente tutti i finanziamenti sono cose fuorvianti sono cose fuorvianti sono cose fuorvianti si può fare la tecnologia ci può aiutare a risolvere problemi ecologici ma bisogna farlo con l'intelligenza non col modo che lo stiamo facendo adesso e quindi succede lo stesso problema a livello individuale dei problemi degli individui succede la stessa cosa la mancanza di umanità la mancanza di tempo da dedicare a queste cose perché si pensa e facendo il treno che si fa prima no si fa dopo mia madre cita sempre un proverbio antico napoletano che è bellissimo cucchiè vai piano che va che pressa cioè il come si dice il viaggiatore che dice al conducente del come si dice il carretto col cavallo no? anticamente cucchiè cioè vai piano che va di pressa perché non devi fare incidenti perché io vado di fretta voglio continuare a fare le mie cose non devi fare incidenti vai piano significa andare più veloce andare piano in certi momenti ragionare dialogare significa perdere tempo a parlare significa andare più veloci ma nessuno lo capisce è spaventoso l'orgoglio non voler ammettere una propria colpa per dire cosa ti chiedo scusa posso aiutarti dai facciamo insieme questa cosa in maniera umile no loro preferiscono poi alla fine fare cosa le cose di nascosto perché loro hanno il potere economico tu sei costretto ovviamente se vuoi mangiare eccetera stai all'oro ti senti minacciato ovviamente da tantissime cose poi ti salta il cervello perché se vivi in queste condizioni c'hai problemi di salute che potresti risolvere non c'hai soldi sei stressato perché vuoi lavorare non ci riesco c'è tutta una serie di cose negative che poi alla fine ti salta il cervello per forza perché sei un essere umano non sei un robot che peccato che peccato perché ripeto che peccato perché io sono mai odiato però io avendo vissuto quel tipo di sofferenza che poi io niente di chissà che cazzo avevo capito cioè io chissà che ci sono stato fortunato gente che entra nelle droga che ci muore io sono stato fortunato mi sono uscito fuori da ottobre 2022 oggi in maniera consapevole ma non avrei ma manco una sigaretta ma proprio non mi passa manco per l'anticamera del cervello da ottobre 2022 è un anno e mezzo abbondante ma io ne sono proprio ma proprio tranquillo non ho nessun problema io saluto frequenti ragazzi che magari prima vedevo dove si fumava il crack e cosa ma proprio tranquillo non ho proprio nessuna intenzione non mi interessa proprio allora io oggi sarei uno che poteva aiutare qualcun altro sarei stato in grado di aiutare qualcun altro e la società migliora invece no sono costretto a stare bloccato così